Allora ieri, ieri cosa succede? Vado all'Eurospin, vado all'Eurospin, bello carico, ho comprato torte, ho comprato pancarè, ho comprato formaggi, la carne non l'ho comprata perché tanto non la mangio, abbiamo comprato, tra l'altro c'è una famigliola con due carrelli, a Lidl la vedi raramente, molti stracomunitari, poveracci, dei poveracci come sono tutti all'Eurospin, poveracci perché lì costa poco, si spende poco e costa poco, quindi si va all'Eurospin, bene. Praticamente cosa succede? Vedo questa famiglia con due carrelli strapieni, un po' la guardo anche con invidia, due carrelli pieni, pieni, pieni di roba, succhi di frutta, tea, ha preso di tutto, giovane coppia, quelle che andrebbero aiutate dallo Stato, quelle che andrebbero sovvenzionate, case popolari, edilizio sostenibile, aiuti alle famiglie monoreddito, quello che dovrebbe fare la sinistra e non fa, ma con soldi, non reddito di cittadinanza che favorisce i single, con soldi, bisogna dare soldi alla povera gente, hai capito? Ai disoccupati, non solo ai monoreddito, come fa il reddito di cittadinanza che c'è il cumulo. Basta luce, basta luce, a cosa sta, cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Allora, dai, si rompe, basta, si rompe. Cosa è successo? Vado alla cassa a pagare, vado alla cassa a pagare, attenzione, attenzione, non avevo i soldi, 175 euro, ho detto, scusi signorino, facciamo 150, io avevo 150 e quindi ho bloccato tutta la fila del supermercato per un'ora, perché hanno dovuto stornare, ma non è così facile lo storno, perché devi andare a trovare all'interno dello scontrino tutti i prodotti per fare l'annullamento prodotto, ma non è così semplice l'annullamento, ok? È un'operazione lunga, dovrebbero dare dei buoni spesa, io non ho reddito, dammi un buono spesa da 500 euro per mantenere la mia famiglia, Cioè, io sono sotto l'ISEE minorenne, perché abbiamo una figlia, abbiamo capito, che sarebbe una cosa che lo Stato dovrebbe incentivare, no? E invece no, l'ISEE minorenne fa fede, l'ISEE della compagna che lavora, produce reddito e quindi io non ho diritto a reddito di cittadinanza, perché superiamo i 10.000 euro di ISEE, una vergogna all'italiana.